I mercati sviluppati soprattutto quello americano sono il traino e lo specchio dell'economia mondiale per lo meno in questo momento le linee guida di investimento porgono sempre i mercati sviluppati e in particolare appunto il regno USA sulla cima della montagna ma i portafogli che aggiungono i mercati emergenti aumentano sempre di più a dismisura vedendo in questa asset class il futuro ma è veramente così ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio come sempre sono Pasquale il vostro investitore risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario AIRF e autore del libro da meno 35.000 in 18 mesi libro del quale trovi il link qui sotto nel caso volessi acquistare il termine mercato emergente è stato coniato nel 1981 dalla International Finance Corporation come termine di marketing per aiutare gli investitori stranieri che investivano ed investono tutt'oggi nei mercati dei cosiddetti paesi in via di sviluppo a oggi la fetta di mercati emergenti sulla capitalizzazione globale totale del mondo pesa di circa il 12% gli investitori sia quelli a dettaglio che gli istituzionali vedono in questi mercati enormi prospettive per il futuro uno sviluppo economico maggiore e più veloce e molti si espongono in maniera importante ad essi la Cina che tra l'altro che è quella che a mio parere viene più sovrappesata in questi portafogli ma sarebbero comunque alcune puntualizzazioni costi e rischi che spesso vengono trascurati e che dovrebbero essere approfonditi per fare questo ho consultato alcuni studi che vi lascio qui sotto in descrizione nel caso voleste andare ad approfondire anche voi l'argomento questo è un video molto tecnico e spero non noioso per il quale prendo spunto con i mercati emergenti per fare un discorso molto più approfondito per cui i mercati emergenti li trattiamo molto in maniera laterale terzo mondo era un termine che per molti all'epoca significava povertà estrema beni scadenti e un po di disperazione ma la definizione di mercati emergenti suggerisce progresso elevazione e un po di dinamismo basandoci sullo slancio della fsi la international finance corporation questa ha creato l'emerging market database mdb fornendo una fonte di dati sulle prestazioni tanto necessarie un'era in cui era molto più difficile reperire informazioni come invece noi siamo in grado di fare quest'oggi grazie appunto alla connessione internet porti di questi dati analisi i team di afc hanno quindi presentato la causa delle azioni dei mercati emergenti agli investitori ai cosiddetti gestori di fondi comuni di investimento nel mondo industrializzato con queste informazioni coerenti e affidabili sulle prestazioni di mercato in mano e si è stata in grado di aiutare a creare i primi veicoli di investimento chiave che hanno poi innescato la nuova creazione la creazione di una nuova gamma di classe economica diversa appunto i mercati emergenti questi includevano il korea fund uno dei primi dei oltre 150 fondi nazionali per i mercati emergenti che sarebbero stati lanciati alla fine degli anni 80 e all'inizio dei primi anni 90 con il tempo questi primi passi degli anni 80 hanno dato vita a un nuovo settore una nuova classe economica che nel corso degli anni avrebbe visto gli investitori tradizionali andare a riversare miliardi in azioni e obbligazioni dei paesi in via di sviluppo questo sforzo catalizzatore ha fatto molto per aiutare i mercati di capitali locali a maturare consentendo loro di fare più che mai per finanziare la creazione di nuovi posto di lavoro simulare la crescita del risparmio e ridurre la povertà un po in tutto il mondo e se ci pensate effettivamente così alcuni paesi che prima erano poverissimi si trovano oggi in una situazione estremamente migliore di 20 o 30 anni fa ma è tuttoro quello che luccica e opinione diffusa che la crescita economica sia positiva per i rendimenti azionali ed economici per cui le previsioni di crescita sono un punto fermo nelle decisioni delle asset allocation internazionale investire nei mercati emergenti compone prospettive di crescita a lungo termine come ad esempio la famosissima cina sono ampiamente considerati di più e comunque più attraenti rispetto all'investire in paesi come ad esempio l'argentina con periodi prolungati di bassa crescita un paio di rifiuti sulle spalle che dovrebbero comunque andare a persistere bisogna capire se effettivamente questa crescita economica possa giocare effettivamente anche ai investitori con la crescita appunto del valore delle appropriazioni però apparentemente la risposta è un drassico e tassativo no almeno secondo gli studi che ho letto durante il periodo di 112 anni che inizia nel 1900 e termina il 2011 la correlazione trasversale fra il rendimento reale composto delle azioni e il tasso di crescita composto per il prodotto interno lordo il pil pro capite di 19 paesi è di meno 0 39 questa correlazione negativa implica che gli investitori nel 1900 avrebbero effettivamente fatto meglio investire nelle società di paesi che avevano finito di sperimentare la loro crescita economica che avevano finito di espandersi in maniera importante piuttosto che investire in quei paesi che hanno registrato tassi di crescita pro capite e me di molto più elevati questi 19 paesi erano principalmente i paesi sviluppati nel 1900 e questi 19 paesi sono ancora sui paesi sviluppati oggi questa correlazione negativa tra crescita economica pro capite e rendimenti azionali è stata vissuta non solo dai paesi sviluppati ma anche dalle economie via di sviluppo attenzione non sto sostenendo che la crescita economica sia un fattore negativo ci mancherebbe altro le persone che vivono in paesi con redditi più alti hanno una vita più lunga una mortalità infantile più bassa ed hanno tendenzialmente anche se non è sempre così guarda l'italia salari reali che sono più alti ma sebbene i consumatori e i lavoratori possano trarre vantaggio della crescita economica chi possiede capitale azioni non è detto che tragga necessariamente un vantaggio questo perché c'è una correlazione trasversale negativa fra i rendimenti reali e reali per crescita di reddito pro capite uno dei motivi che parte della correlazione negativa tra i rendimenti delle azioni reali per la crescita del pil reale pro capite riflette la tendenza degli investitori a costruire nelle proprie menti le aspettative per una crescita elevata dei prezzi all'inizio del periodo questo è uno dei motivi principali per cui i rendimenti delle azioni cinesi nel periodo 1993-2011 sono stati bassi tuttavia quando si utilizzano 112 anni di dati gli effetti di tale anticipazioni su rendimenti medi realizzati dovrebbe essere piuttosto modesta perché anche se i prezzi delle azioni all'inizio erano due volte più alti in un paese rispetto all'altro l'effetto sul rendimento medio è solo dello 0,6 per cento circa l'anno poi subendo anche un discorso di liberalizzazione codio vato anche dai discorsi speculativi efficienza mercati e della loro volatilità la teoria economica generalmente suggerisce che l'attività speculativa migliora il loro informativo e allocativo dei mercati dell'attività rendendo così i mercati più efficienti l'attività speculativa estera nei mercati emergenti può svolgere un loro particolarmente importante in primo luogo il potenziale di manipolazione del mercato è acuto in quei piccoli mercati emergenti e la liquidità è spesso molto ma molto scarsa sebbene ci siano molte iniziative politiche che potrebbero ad esempio aumentare la liquidità e ridurre il grado di collusione fra i grandi trader potrebbe non esserci comunque una massa sufficiente di speculatori o di investitori per garantire la liquidità e l'efficienza del mercato così come avviene per i mercati sviluppati in secondo luogo aprendo il mercato di speculatori stranieri può aumentare la valutazione delle società locali riducendo così il costo del capitale proprio le liberalizzazioni dei mercati azionari portano a cambiamenti importanti sia nel settore finanziario che in quello reale man mano che l'economia si va a integrare nei mercati mondiali dei capitali lo studio dell'integrazione del mercato è complicato perché si può liberalizzare in molti modi e molti paesi hanno però preso strade diverse per studiare l'efficacia di particolari politiche di liberalizzazione la sequenza delle liberalizzazioni e l'impatto sull'economia reale devono essere sviluppati metodi statistici sistematici per datare la liberalizzazione nei mercati azionari emergenti ci si pone infine un'ulteriore domanda quali sono i driver o i booster come se si voglia dei rendimenti medi sui mercati internazionali sono le fonti di rischio che incidono sui mercati sviluppati le stesse che incidono sui mercati emergenti ci sono molte ragioni per ritenere che le fonti di rischio dei mercati emergenti e sviluppati possono differire molto e di particolare importanza le relazioni sui prezzi che mostrano un certo successo positivo nei mercati sviluppati falliscono nei mercati emergenti per cui i mercati emergenti e sviluppati non possono essere trattati nello stesso modo dal punto di vista dell'investitore le liberalizzazioni del mercato azionario offrono agli investitori stranieri l'opportunità di investire in titoli azionali nazionali e agli investitori nazionali il diritto di negoziare in titoli azionali esteri è importante distinguere tra i concetti di liberalizzazione e di integrazione per fare un esempio un paese potrebbe approvare una legge che apparentemente elimina tutte le barriere alla partecipazione straniera ai mercati dei capitali locali questa è una liberalizzazione ma potrebbe non essere una liberalizzazione effettiva che si traduce poi una in una integrazione del mercato in effetti sono due possibilità in questo esempio il primo luogo il mercato potrebbe essere stato integrato prima della liberalizzazione normativa cioè gli stranieri potrebbero aver avuto la possibilità di accedere al mercato attraverso altri mezzi per investire come ad esempio i fondi nazionali o le cosiddette adr in secondo luogo la liberalizzazione potrebbe avere scarsi o nessun effetto perché gli investitori stranieri non credono che le riforme normative di quel paese dureranno a lungo o esistono altre imperfezioni nel mercato questo è il caso delle tante discussioni che ho fatto anch'io più volte sulla Cina e sulla ingerenza da parte del governo centrale nelle grandi aziende private ricordate Ant Group e Alibaba quindi per studiare le liberalizzazioni queste devono essere datate questo è difficile perché i paesi hanno perseguito diverse strategie di liberalizzazione se una liberalizzazione efficace porta all'integrazione del mercato che ha un effetto fondamentale sia dal settore finanziario che su quello reale sui paesi in via di sviluppo quindi quello dell'agente comune in uno degli studi sono stati inseminati ad esempio 18 misure di rischio in 47 mercati internazionali e particolare attenzione è stata prestata a una misura del lato legativo implicata nella teoria del prezzo degli asset la cosimmetria o in inglese co skewers questa misura del rischio cattura il contributo che un asset apporta alla asimmetria totale di un portafoglio ben diversificato una simmetria negativa implicherebbe che l'aggiunta di un asset al portafoglio ridurrà la simmetria del portafoglio stesso dato che gli investitori amano la simmetria positiva e non negativa questo asset dovrebbe avere un rendimento atteso elevato per convincere gli investitori internazionali ad andare ad acquistarlo le misure di rischio implicate dalla teoria del prezzo degli asset in particolare il beta mondiale e la cost unes come dicevamo prima funzionano ragionevolmente bene per catturare la sezione trasversale nei rendimenti medi dei mercati mondiali tuttavia molti mercati emergenti sembrano essere influenzati da misure di rischio totale come varianza e la simmetria ciò è coerente con la loro integrazione tutt'altro che completa con i mercati di capitali mondiali il problema è tendenzialmente questo una incompleta integrazione con i mercati mondiali in sintesi mercati emergenti devono diventare alla fine mercati sviluppati mentre ben accettato che le forze della globalizzazione abbiano ridotto la segmentazione dei mercati negli ultimi decenni è difficile quantificare l'entità i tempi e le fonti di questa riduzione in effetti la globalizzazione con la sua apertura normativa non è un concetto automatico per la totale integrazione fra i veri mercati quelli sviluppati e quelli emergenti perché si riportano esempi di mercati che anche se integrati o parzialmente integrati e sulla strada per diventare mercati sviluppati abbiano a un certo punto subito un'inversione di tendenza e si erano ritornati ad essere mercati emergenti bene fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste mie considerazioni degli studi che citato se questo video è stato il tuo gradimento ti chiedo per cortesia di supportarmi veramente con poco perché questo video mi è costato parecchio tempo per preparare lasciando un bel pollice in su per farmi crescere sulla piattaforma a te costa un millisecondo ma per me significa veramente tanto se sei nuovo sul canale poi ti chiedo per cortesia di iscriverti di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo poi se vuoi organizzare una call di educazione finanziaria come sempre puoi trovare il link qui sotto per prenotare la call bene anche per oggi tutto non mi resta solo che salutarti e arrivederci a un nuovissimo video ciao 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 ciao